Entrerai al monastero, provvederanno i benedettini alla tua educazione. Li vedi quelli tutti incappucciati? Non sono monaci, sono donne, le loro amanti. E' arrivato molti di Cristo! Chiudiamoceli il monastero o ci uccideranno tutti! E' libero! E' libero! E' libero la libertà! Libertà è una parola che non significa niente, ma che accontenta tutti. Libertà significa anche che ora che l'Italia è fatta, dobbiamo farci gli affari nostri. Voi siete di destra, il presidente del consiglio non è di sinistra? Destra, sinistra, oggi non significano più niente. Ti sei illusa del tuo amore con Giovannino? Ma il suo fratello Michele che ti vogliono far sposare? Sì. Michele, lo Scorpio! Un discendente dei Vicerre che trama contro il suo stesso sangue. I padri operano per il bene dei loro figli, non per la loro infelicità. Sono lo sposo. Non sarebbe il mio figlio. E allora non sarò più possibilità. Devi andare qua con Salvo. Sempre be' cose di fretta. E senza riflettere. Il male nel nostro sangue. Per sconfiggere il male, il bene non basta. Ma tutti mi odiano. Mi hanno insegnato a odiarmi. È l'odio che ci fortifica. No, l'amore è come dicono i deboli. L'odio che ci tiene in vita.